bella vecchia valice migrana se siamo tornati con nuovi suoi rotti di gioco andata e subito contro il padre staglie staglie vabbè 1 bilancia fabbrica stile cc perchè la legge di sap comunque si guarda riserva dopo tanto tempo anche se non sembrava sembrava però se vuoi dire che è un mossa credibile bai guarda subito la stile di maria maria avanza di maria nessuna di maria per favore e lei è stata la ponte del culo da roma 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 sapete le mani in faccia paris unico l'unico stupido che ci ha mi sollevato pala per diego costa che la spizza bene non c'è large rio san madonna attaccata stava a bordo mamma che partita del merda no no ma cos'è che di me ha guardo non è possibile c'è un'azzeccata un passaggio 1 0 non 1 0 te giuro che se continuano a dire i miei commenti che sei muti di pippe me li in culo te giuro va vorrei veder loro a sta partita oh no Diego Costa Diego Costa no porca pizzai che segna no io non ti pensavo facciamo davanti cioè oh mortacci è la madonna non lo so cogan oh oh è morto o porco ti chiedi gioca ti importa lei tombeins ha la battuta ma è di che era non è ma è di che era ma è di che era ma è evidente si si la dirò la sei preoccupato no 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 io sono tanto una volta riuscito a fare così questo no 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 lei tombeins in se in quel modo di che facciamo con la bomba che i due alberi insieme a direttore abbiamo un buon dita per me amica mazzare la città la città la città la città la città la città no 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 e' un'occhio è un'occhio l'avancolo c'è una renda ricca sto no perchè avvicinare il legame in casa l'esatacca e la natura di erano mostrieto. devo sbagliare si accadde non ho avuto segreti non fa la faccia ma questa pompa una bella di casa sole tutti qua ora passato la grande guarda te puntaci tu non me lo fa finito ti metti pure mezzo eccoci qua con la seconda partita incredibile e che cazzo è l'albero di natale ovvero ovvero ai giocatori di tutti i colori ci mettiamo kin manca solo un toti ci mettiamo kin allora ragazzi il piatto piange quindi se qua non si vince grazie a capisci forse da un po' infatti il piatto piange e tutte cose quindi oggi serve a tutti i costi una vittoria e quindi dobbinate un po' come ti da ah oh mamma mia questo che odio questi passaggi guarda un po' 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 e la maccina marina ma una carty i servizi fatti mi resta ho messo un po' vedete mi entravo dentro ma che... mi ha fatto tutto l'effetto allora mi fa entrare, mi hanno giocato il 4 a 0 oh 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 dai ma chi è sempre Tadic? dai dai quello 4 a 1 si dai 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 cazzo cazzo le svolte cazzo c'ho su questo è imparato come la tua, te ne è indicato no te stava spuntando via poi c'è un tempo io non mi sento veramente ma davvero ma se vada il cazzo alzar e vai questa era proprio un po' facile da vincere ah vabbè la stava passante palla dai questo è Tadic 4 a 2 che bello quest'episodio il ritorno col botto dei vecchi trappati proprio con botto con frociata eh che bello eh vabbè ragazzi ci sta ci sta perché tanto adesso non li vinceremo no anzi se li vincimo tutte forse è passato pure infatti quindi tutto niente è perduto domani domani nuovo episodio non è vero un cazzo bella ciao 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 ciao